Spesso capita durante una lezione che vogliamo presentare ai nostri studenti un video. Finora l'operazione non era semplice perché l'audio risultava pessimo. Adesso è presente una nuova funzione. Dove cliccavamo per presentare lo schermo intero o una finestra del nostro schermo, adesso compare la scritta una scheda di Chrome. Cosa significa? Significa che noi possiamo condividere sul nostro schermo un'altra pagina di Chrome dove è possibile vedere un video. In questo modo, con questa funzione, l'audio sarà esattamente quello che i ragazzi sentirebbero se aprissero direttamente il video sul loro computer. L'accortezza però che dobbiamo osservare è questa. Prima della lezione noi dobbiamo avere già aperto e preparato le pagine che ci interessano. Vediamo cosa succede. Clicco su una scheda di Chrome e qui mi viene la scelta di quello che ho preparato qui sopra. Vedete che è lo stesso, c'è Mondadori Education che è questa pagina e Mozart che è questa pagina. Vediamo cosa succede se io clicco sul video di YouTube. Scelgo, controllo che qua ci sia scritto Condividi audio, di solito però viene dato di default quindi non c'è da toccare nulla, e poi scelgo Condividi. Faccio partire il filmato. Quello che vedranno i nostri alunni è delle schede che io ho aperto qui in alto, quella con il rettangolino azzurro. Io posso anche cambiare la pagina. I miei studenti continueranno a vedere questa pagina e ascoltare la musica. Quando la visione è terminata io non devo fare altro che interrompere e tornare sulla mia schermata principale. Questa possibilità funziona anche con le piattaforme dei libri digitali, quindi non soltanto con i video di YouTube, ma anche sulle piattaforme dei libri che abbiamo in adozione. Io faccio lo stesso lavoro di prima e scelgo Mondadori Education. Ovviamente l'avrò preparato prima. Ed è la stessa cosa. Vedete che qui c'è il rettangolino azzurro, che significa che i miei alunni continuano a vedere questa schermata anche se io mi sposto. Quando ho finito, interrompo e torno sulla pagina iniziale.